Uno spettacolo angosciante è apparso al gestore della palude di Torre Flavia di Ladispoli, Corrado Battisti, e ai tanti volontari che si occupano dell'area. Negli ultimi giorni, infatti, diverse carcasse di volatili e di due nutrie sono state ritrovate nei pressi del Monumento Naturalistico e delle Dune. È importante che siano arrivate delle rassicurazioni da parte degli enti preposti sul fatto che né la viaria né la febbre del Nilo siano presenti in questa zona. Vediamo di cosa si tratta e se si può parlare ugualmente di cariche virali, ha dichiarato Battisti, che ha aggiunto Rivolgiamo per l'ennesima volta un appello ai cittadini. Se notate qualche esemplare ferito, contattate subito le autorità e non toccatelo. Le cause potrebbero essere diverse e nemmeno identiche per i vari animali morti, ha spiegato il consigliere comunale e delegato alle aree protette di Ladispoli, Filippo Moretti. Per questo attenderei che sia la nostra ASL, a cui sono state demandate le autopsie, o l'Istituto Zoo Profilattico a stabilire con precisione i fatti.